Sì, ragazzi, ragazzi, ragazzi C'è lì, c'è la telecamera Mi sicuro non pubblica No, più le cacca ci rompe Sta riprendendola Che è sta roba? Ma niente, riprende uguale Ma è mai l'importo più lo talerà Esatto Questo è il nostro corso No, non è l'importo Non è l'importo Ma non è l'importo E l'importo Non è l'importo Ma non è l'importo Non è l'importo Non è l'importo Non è l'importo Grazie a tutti. 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 Go! 6 a 4, no? 6 a 4. 6 a 4. 6 a 4, no? 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 7 a 4, no? 6 a 4, no? no 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 cosa due pari no 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 i Ehi, è finita, grande, voglio vedere il mio video. Ma senza tirare, voglio fare le foto. Le foto le devi schiazzare però se ti faccio il video poi le prende andò il video